Lo YouTube Studio, ovvero il pannello di controllo dei nostri canali, sta diventando sempre più complicato. Nuove funzioni vengono aggiunte ogni mese e può essere che qualcosa ti sia sfuggito, magari qualche funzionalità che può essere utile per la crescita del tuo canale. Tralasciando le impostazioni più famose, oggi ti voglio mostrare 6 impostazioni dello YouTube Studio che potresti ancora non conoscere, ma che devi considerare ogni volta che carichi un nuovo video. Intanto ti dico che troverai tutte le impostazioni di cui parleremo oggi nella pagina Dettagli dei tuoi contenuti già caricati sul tuo canale. La prima impostazione di cui parliamo va sistemata prima della pubblicazione del video, quindi ad esempio quando il video è caricato in forma privata o non in elenco o è programmato per essere pubblicato in futuro. Nella sezione Licenza e distribuzione c'è un flag che dice Pubblica nel feed iscrizioni e invia una notifica agli iscritti. Questa è un'impostazione che dovrebbe essere sempre attiva, vuoi che i tuoi iscritti ricevano una notifica ogni volta che pubblichi un nuovo video. Anzi, dobbiamo dire che anche con questa impostazione attiva non tutti gli iscritti ricevono la notifica, YouTube fa una selezione di quelli che sono stati gli iscritti attivi più recentemente sul tuo canale, ma sicuramente se non attivi questa impostazione allora sarà matematico che nessuno riceverà la notifica. Quindi a meno che tu non stia caricando un trailer del canale che potrebbe non interessare a chi è già iscritto, oppure un video diverso dal solito su un argomento che non interessa i tuoi iscritti. A parte questi casi, in tutti gli altri casi, assicurati che questa impostazione sia attiva. Questa seconda e tutte le altre impostazioni di cui ti parlerò possono essere sistemate anche dopo la pubblicazione del video, quindi non ti preoccupare, potrai anche cambiare idea in seguito e andare a modificare a posteriori queste impostazioni. La prossima funzione di cui ti parlerò riguarda gli shorts, il formato di video brevi verticali che sta spopolando su YouTube, ma dovresti interessartene anche se non crei shorts in prima persona. C'è una sezione che si chiama remix di shorts, in cui devi indicare cosa vuoi permettere ad altri creator di fare con i tuoi video. È infatti possibile concedere il permesso ad altri youtuber di prendere dei pezzi dei tuoi contenuti, anche video lunghi, per farci uno shorts. Questa funzione si chiama remix, ed è proprio presente un pulsante dedicato a questa funzione sotto i video che la consentono. Le opzioni tra cui scegliere sono consenti il remix di contenuti audio e video, consenti il remix solo di contenuti audio, non consentire il remix. Nel primo caso chiunque può prendere un pezzo del tuo video con il relativo audio e farci uno shorts, magari una reaction o un commento. Nel secondo caso sarà possibile estrapolare solo il tuo audio da inserire in uno shorts e nel terzo caso ovviamente non sarà possibile prendere niente dai tuoi video per creare degli shorts. La scelta qui è tua, se pensi che sia rischioso concedere ad altri la possibilità di maneggiare il tuo contenuto e commentarlo in qualsiasi modo, allora puoi disattivare i remix. Ma personalmente ti consiglio di lasciarli attivi, è tutta pubblicità per il tuo canale, perché se un altro creator prende un pezzo di un tuo video per farci uno shorts, il tuo canale, il tuo nome sarà visibile a chi guarda quello short, potrà essere cliccato e così nuovo pubblico potrebbe scoprire il tuo canale. Se non hai ancora avuto collaborazioni commerciali, partnership o sponsorizzazioni sul tuo canale, potresti non avere ancora dato un'occhiata a questa impostazione, ma bisogna essere preparati. È infatti obbligatorio indicare se un tuo video contiene promozioni a pagamento, come un posizionamento di un prodotto, una sponsorizzazione o una raccomandazione. Come sempre le definizioni di YouTube non sono molto chiare, ma per semplificare possiamo dire che se hai ricevuto denaro o un bene di valore per la realizzazione del tuo video, devi flegare questa opzione e farlo sapere a YouTube. C'è una sezione apposita che si chiama promozione a pagamento. Non cambierà niente per il tuo video, semplicemente YouTube lo farà sapere ai tuoi spettatori aggiungendo un piccolo banner in alto quando parte il video. La prossima opzione riguarda la possibilità di embeddare, ovvero di inserire il tuo video all'interno di un sito web tuo o di qualcun altro. Nella sezione licenze e distribuzione c'è il flag consenti incorporamento. Se lo attivi significa che chiunque sotto il tuo video potrà selezionare condividi, incorpora, copiare il codice HTML e incollarlo sul proprio sito web per far apparire il tuo video di YouTube all'interno del sito. Anche in questo caso ti consiglio di tenere attiva questa opzione, perché quando qualcuno inserisce un tuo video all'interno del suo sito web è come se quel video venisse guardato all'interno di YouTube, quindi comunque vengono calcolate le visualizzazioni e chiunque può cliccare il nome del tuo canale per scoprirlo, per iscriversi e per guardare altri video. Inoltre magari tu stesso potresti avere un blog in cui è utile inserire i tuoi video a livello di SEO o per farti trovare anche sui motori di ricerca. Per evitare i rischi di questa impostazione controlla ogni tanto le fonti di traffico del tuo canale. Se cominci a vedere tante visualizzazioni da un paese straniero o da un sito in particolare può essere che qualcuno abbia inserito lì il tuo video. In questo caso dovresti contattare il proprietario del sito e chiedere di rimuoverlo. Ci sono poi tre impostazioni automatiche che ho voluto raggruppare all'interno di un unico consiglio. È infatti possibile far creare da YouTube i capitoli automatici, i luoghi automatici e i concetti automatici. I capitoli sono le sezioni in cui viene suddiviso il tuo video. Si vedono sulla barra temporale in basso mentre scorre il tuo video e permettono agli utenti di saltare da una sezione all'altra per trovare quello che gli interessa. Sono molto utili ma personalmente ti consiglio di scriverli manualmente perché YouTube potrebbe fare degli errori. Se li inserisci tu sono sicuramente più precisi i titoli sono più chiari. A volte potrebbe anche esserci il problema opposto ovvero i titoli che scrive YouTube automaticamente sono troppo specifici, fanno quasi degli spoiler sul contenuto che magari vorresti mantenere un pochettino più misterioso. Puoi anche lasciare sempre attiva la creazione automatica dei capitoli così magari se te ne dimentichi lo fa YouTube. Invece se li scrivi poi manualmente all'interno della descrizione sovrascrivono comunque quelli automatici di YouTube. I luoghi automatici personalmente non mi è mai capitato di vederli sotto nessun video. Scrivimi magari nei commenti se invece tu li hai visti. Dovrebbero essere simili ai capitoli quindi sotto il video dovrebbero apparire delle miniature con tutti i luoghi che sono stati citati o visitati all'interno del video. Probabilmente funziona bene per i canali di viaggi, per tutti gli altri casi penso che tu possa mantenere disattiva questa opzione. Anche l'ultima opzione automatica è una cosa nuovissima che non ho mai visto da nessuna parte ma che potrebbe essere utile. Con i concetti automatici in teoria YouTube dovrebbe rilevare gli argomenti del tuo video e creare sotto il tuo video una sorta di Wikipedia che vada ad approfondire i concetti principali espressi all'interno del video. Tendenzialmente un video non dovrebbe avere bisogno dell'enciclopedia per essere compreso ma è anche vero che quando parliamo di un argomento non possiamo sempre ripartire dalle basi quindi vorrei vederla in azione per capire se può essere utile. Questa è una novità recentissima YouTube ha da poco inserito l'obbligo di autodichiarare se ci sono contenuti alterati all'interno dei tuoi video ovvero se hai usato strumenti di intelligenza artificiale per modificare i contenuti del tuo video. Se è così nella sezione contenuti alterati devi cliccare sì come risposta alla domanda. Una delle frasi seguenti descrive i tuoi contenuti? Fa dire o fare a una persona reale qualcosa che non ha detto o fatto? Altera il filmato di un evento o un luogo reale? Genera una scena realistica che non è realmente avvenuta? Non tutti gli utilizzi di intelligenza artificiale vanno dichiarati in questo modo. Per fare chiarezza ho già realizzato un video in cui ti spiego in maniera approfondita quali sono esattamente i casi in cui devi dichiarare di aver alterato i tuoi contenuti. Segui questi consigli e queste indicazioni per non sbagliare e per non rischiare di avere dei problemi con i tuoi video. Alla prossima!